Bella ragazzi bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con questo nuovo video oggi ragazzi Juventus-Torino, il derby della Mole, eccoci qua allo Stadium raga, pronostico, difficile perché il derby, solitamente il derby la Juve o fa 1-0 o fa goleada però stavolta dico 2-0 Juve comunque ringraziamo Adidas per ospitarci allo Stadium tra poco arriveranno Luca Campolunghi, Lisa Lucchetta e Giorgia Moss e niente io inizio ad entrare dentro casa nostra, vamos ed ecco il pullman del Torino ragazzi, appena arrivato, eccolo qua ed eccoci qua, ci siamo ragazzi casa nostra, che è Torino e bianconera, scrivetelo tutti nei commenti ragazzuoli è arrivato il nostro pullman, eccolo lì speriamo che siano carichi carichi contro il Torino eccoli, eccoli lì che stanno scendendo ed ecco Max Allegri eccolo lì ragazzi, ci siamo hi Max hi mister mi sa se sarà cortomuso anche oggi, chissà dai dai eccoli, i ragazzi che scendono ci sono ande Leo dai Leo dai ragazzi dai capitano dai capitano Duzan bremer, voliamo il gol, bremer vai Duzan perlone, rabbio Alexandra pa la 300esima partita oggi quadrato ecco Paul dai Federico dai Paul Chico grande pole speriamo giochi ecco il fideo eccoci qua ragazzi lo stadium ci siamo eccoci ragazzi forza vinciamola portiamo a casa questa vittoria portiamo a casa questo derby della mole forza ragazzi Duzza Blaumic magari oggi Juventus Amatore Massimiliano Allegri primo numero uno Boicek Shastin numero tre Gleison Tre e oggi segna numero sei Da Silva Danilo numero nove Duzza Gleis numero undici Guarnet Guarnet numero 12 Alex Sandro trecentesimo numero 17 Kip Maffini numero 22 Agam di magia numero 25 Adrian Cavallo numero 44 Nicolo Marcolino numero 45 Enzo Barre Decea Vai Enzo Vai ragazzi forza Juve vamo vamo Juve suona tocante la nuove bianco capraccia in meno un cuore che scalza davvero vamo forza Juve vai ecco le squadre in campo ci siamo ragazzi va bene oh va bene non si credo un minuto e trenta gol del cuore dopo un minuto e trenta non si credo ragazzi mi ha preso mi ha preso gol dopo un minuto e trenta siamo rimasti negli spogliatori vediamo se ce l'ha la risposta vai vai mettila e mezzo mettila rigore wow non è rigore ma come no ma come no ma come no ma come no vai al bar vai al bar oh vabbè che cazzo oggi ci serve di fare dare play mi sembra che si è buttato ma non ho capito perché ma che si è buttato 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 ma se non è la speed vai vabbè dai buona 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 vai sì no vai buona 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 6 4 Adesso ribazziamo Grande panita Grande panita Vamo Cosa ha parato Cesi Ha fatto un miracolo Miracolo di Cesi ragazzi Ha un quarantesimo miracolo di Cesi E' giusto E' giusto Stiamo addormento ragazzi Stiamo addormento Stiamo addormento Ci siamo addormentati letteralmente Il Torino ha segnato il numero 9 Sarà bene Diamoci una sveglia perché così non va bene Dai, grazie Vango Dai, una bella città Vamo rifatti perdonare Dai Dai Ragazzi Sì, il primo tempo Su a due Alti e bassi La Juve A certi tratti Sembrava Dominare A certi tratti Dormire Abbiamo dominato Il pareggio Poi appena abbiamo pareggiato Ci siamo arenati Abbiamo preso i gol Ci siamo risvegliati subito Adesso dobbiamo entrare in campo Le second tempo Con lo stesso atteggiamento Andiamo a vincerla Punto Si riparte Secondo tempo No ragazzi Dal 2 a 2 Dobbiamo vincere assolutamente 3-3 del Torino Aiuto Voglio fare rientrare che mancino Madonna Che rischio Che rischio E' il traverso del vuoro E non è finito Aiuto Ed ecco il cambio Ed ecco il cambio Tanto atteso Ed il numero 45 Barra Nacea Con il numero 10 Poppa Dai colpo Decidila tu Sta partita Eccolo Mettila e mezzo Dai Grazie! Noi sono bene! Noi sono bene! Vamo! 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 Dai chiudiamola dai! Si! 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 Andiamo! Andiamo! L'abbiamo chiusa! L'abbiamo chiusa! Torino è bianco nero, ha messo davvero il testo, andiamo! E la nuova di Prus ha segnato il numero 25, Fabio, 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 è buono, è buono ragazzi, è buono! Inizia qua, 4 a 2, Torino è bianco nero ragazzi, sempre forza l'unico, mi raccomando la seconda fase, iscrivetevi, siamo alla prossima, bella regala, forza l'unico, sempre!